Il mercato in chiusura, il Catania si aggiutica l'attaccante Volpe, il centrocampista Zuccolini e formalizza la cessione di Pecorino, Biondi e Noce, al Palermo invece sfuma l'acquisto di Di Gaudio. Tre operazioni in uscita annunciate e definite proprio nelle ultime ore. Il primo a lasciare Catania è stato Emanuele Pecorino che ieri sera ha raggiunto Torino e questa mattina ha effettuato le visie al J Medical prima di legarsi alla Juventus. Giocherà in Serie C nella formazione Under-23, allenata da Lamberto Zauli. Per lui, contratto di 5 anni con ingaggio a salire. Altro prodotto del vivaio Vittorio del Grifo che vola via è Kevin Biondi. Il centrocampista Etne è stato ceduto a titolo definitivo al Pordenone in Serie B. Il trasferimento di Biondi, il cui contratto sarebbe scaduto a giugno, era nell'area ormai da alcuni giorni e sancisce la conclusione dell'esperienza in rossa-azzurro del ragazzo catanese. Per lui 52 presenze e 6 gol nell'arco di una stagione e mezza. Saluta, ma solo momentaneamente, pure un altro catanese, il difensore Mario Noce, coetaneo di Biondi, anche lui cresciuto nel vivaio della società etnea. Il centrale ha prolungato sino a giugno 2022 il contratto con il Catania che poi lo ha girato in prestito al Potenza per questa seconda metà di stagione. Maurizio Pellegrino per l'attacco ha chiuso invece l'ingaggio dal frosinone della punta Michele Volpe. A centrocampo arriverà Franco Zucculini che si sta svincolando dal club uruguaiano con cui ha giocato sinora per l'ex del Venezia con tratto biennale e operazione curata personalmente da Giotta Coppina. Fermo è il Palermo che aveva puntato tutte le sue fisce su Di Gaudio per l'attacco, ma l'esterno palermitano ha preferito rimanere a Verona scendendo di categoria ed indossando la maglia del Chievo.